Buonasera a tutti, siamo qui alla seconda stagione del salotto di Mario Gallo, abbiamo un ospite speciale, Robert Flavio Paltrinieri, che sono qui a presentare oggi, un imprenditore a 360 gradi, classe 65, studi economici, finanziari e giuridici sia in Italia che negli Stati Uniti, diventa imprenditore alla giovane età di 23 anni, opera oggi tra l'Italia, gli Stati Uniti e l'Africa, si è dedicato tra le altre cose alla ristrutturazione di aziende in difficoltà e all'apertura di nuove strutture, creatore del fondo Galaxia Amonra Capital. Vuole raccontarci chi è Robert Paltrinieri? Innanzitutto benvenuto. Grazie dell'invito, sono un imprenditore che ha studiato, come ha detto lei prima, sia studi giuridici che studi economici e mi sono sempre appassionato ai modelli di business che davano segni di dove essere innovati, quindi partendo dal crisis management su imprese che non andavano bene, che in parte sono riuscito a risonare e in parte no, perché non sono un only success man, ma detto questo mi occupo di sfide che sono quelle che mi riempiono più la vita di mercato rispetto a modelli economici consolidati che però prestano il fianco a migliori e il tempo passa, la tecnologia aumenta e per cui curiosamente approcciamo nuovi tipi di modelli di business su settori consolidati, questo è più o meno la descrizione. Ok, diciamo che il nostro invito è perché domani venerdì 24 febbraio alle ore 11 lei presenterà ufficialmente una nuova compagnia aerea a Via Roma, a New Way to Fly. Perché una nuova compagnia aerea e da dove nasce l'idea? Dunque, l'idea nasce da quello che ho detto prima, cioè lei si deve immaginare che pur essendo un settore iper tecnologico l'aviazione si basa su due modelli di business, uno è il modello di business low cost, che la gente pensa che sia una grande innovazione, in realtà è nato nel 1971 con Southwest negli Stati Uniti, quindi non è mai cambiato dal 1971 e l'altro che è quello delle compagnie legacy, Lufthansa, Al-France, quella che era lì. Abbiamo perso la voce, abbiamo perso la voce. Hai staccato il microfono. Mi senti? Sì, siamo rimasti a Al-France, all'Italia. Bene, diciamo, questo è un modello che non è mai cambiato, sono praticamente un secolo che le compagnie usano un modello di business legato squisitamente alle revenue che ottengono dai biglietti, alla venta dei biglietti, con una marginalissima proposizione di servizi. Noi abbiamo immaginato di poter, partendo da quell'enorme mercato potenziale che l'Italia, attualmente è il numero 6 a livello mondiale, ma potenzialmente tutti sanno che è, se non il primo o il secondo mercato potenziale per la straordinaria e poterosa capacità turistica del paese, abbiamo immaginato di introdurre tutta una serie nuova di visioni sul modello di business aeronautico per fare... Ci salta un po' la linea, ogni tanto salta la linea, li perdiamo. Mi senti? Adesso sì. Proviamo perché la zona è questa. Per cui, ripeto, ci siamo immaginati di introdurre tutta una serie nuova di piccole visioni all'interno del modello di business aeronautico per fare in modo di generare profitti sul valore reale di una compagnia aerea, che è il passeggero. Cioè quindi la comunità intorno alla compagnia aerea. Possiamo definirla una social company, mettiamola a vedere. Quindi diciamo che avete, come dicevi prima, magari l'Italia al centro di questa vostra iniziativa, quindi quali tratti avete del programma e che tipo di aerei costruiranno la vostra flotta? Dunque, voglio dire, svilupperemo in primis, intanto introduciamo come prima compagnia in Europa, non al mondo, perché negli Stati Uniti c'è già un'esperienza simile, il micro raggio. Cioè ci occupiamo di riattivare tutta una serie di piccoli aeroporti dislocati in luoghi meravigliosi italiani, faccio un esempio a Osta, faccio un esempio a Padova, una città fortemente turistica che è un aeroporto che può tranquillamente ospitare voli di linea con piccoli aeroporti, collegandoli ai city airport, come per esempio Roma Urbe, per capirci, quindi molto comodo al centro. Esatto, quindi svilupperemo un network italiano basato su micro, medio e corto raggio, cercando di ricreare un'infrastruttura che consenta alla gente in Italia di spostarsi, perché a me piace sempre ricordare che l'aria è un'infrastruttura che esiste in natura, mentre il treno no, bisogna fare gallerie, ponti, viadotti, ferrovie, inquinare, cementificare, l'area non ne ha bisogno. Se posso fermarti, scusami, hai nominato alcune città, ma tutte al nord, il sud verrà coperto dalla vostra... Assolutamente, per esempio, con il corto raggio, uno dei più grandi nostri versi è Scalea, per esempio. Scalea, pochissimi sanno che ha un aeroporto meraviglioso, una zona meravigliosa, e che ha, e che, voglio dire, per noi è focale riattivare, come per esempio lo è l'aviosuperficie di Matera, quella che usava lei, è fondamentale riattivarla, stiamo già partecipando a dei forum con i comuni, con le autorità locali, con le regioni, e assolutamente per noi il sud è focale, quindi riattiveremo Crotone in modo intensivo, abbiamo un occhio di riguardo a Foggia, che peraltro già ci stanno copiando, perché Foggia è stata un'idea nostra, Ponte Cagnano, per esempio l'aeroporto Costa d'Amalfi, per noi è fondamentale. Poi passeremo a uno sviluppo balcanico, dell'area balcanica, e lo sviluppo mediterraneo, per mediterraneo intendo il Nord Africa, che ha un'enorme comunità di italiani pensionati e vacanzieri che si recano quotidianamente nella fascia nordafricana, diciamo, sopra il Sahara. Dopodiché cominceremo con il lungo raggio, e il lungo raggio saranno una serie di sorprese interessanti, posso solo anticipare che saranno rotte, che collegheranno le città principali del mondo utilizzando degli aeroporti secondari, per esempio noi serviremo New York, da Filadelfia e da Baltimora, per permettere al cittadino di avere delle, al passeggero, scusate, avere delle fers molto competitive e comunque su aeroporti che infrastrutturalmente hanno già tutto il servizio per recarsi alle grandi città. Sì, anche perché la vicinanza poi alle grandi... È un'ora e venti di Pullman, molto comodo, sì. Aerei, aerei per noi sono dei bellissimi e fascinosi pezzi di ferro che comportano un collegamento dal punto A al punto B. Sostanzialmente la flotta è importante per rendere comfort e per rendere sicurezza al passeggero. Come vedete sul sito, noi adattiamo però l'aereo, la scelta dell'aereo, al raggio che dobbiamo fare, non abbiamo fatto figli con nessuno, non abbiamo legato la nostra compagnia a un marchio di produzione, quindi noi andiamo a scegliere l'aereo migliore per ogni segmento. Posso dire che attualmente siamo orientati verso, diciamo, la famiglia Arba. Sì, un attimo solo, Roberto. Sì, fra ora, prego, sì. This meeting is being recorded. Ok. Ok, la prossima domanda che ti volevo fare, ho letto da qualche parte, ho saputo, che uno dei punti di forza della vostra compagnia sarà la gastronomia a bordo, con solo eccellenze gastronomiche italiane in prima linea. Perché questa scelta che si allontana dal classico servizio a bordo delle altre compagnie? Allora, per due motivi. Uno, perché noi partiamo dal Noma Via Roma per rappresentare l'Italia con la capitale italiana e l'Italia è, per distacco, il paese che ha la miglior tradizione culinaria al mondo. E io trovo che non credere su questo punto di forza, partendo da un servizio made in Italy, è semplicemente stupido. Tutto lì. Seconda cosa, perché noi ci siamo posti due obiettivi. Il primo è la nostra scelta di la piena sostenibilità del cibo offerto a bordo. Quindi noi, per esempio, utilizzeremo solo Cultivate Meat, che peraltro noi come gruppo produciamo. E quindi carne prodotta non OGM, come dicono le persone ignoranti del settore, ma con la moltiplicazione cellulare senza uccidere l'animale. Quindi questo è intanto un punto che ci rende molto orgogliosi. assoluto, siamo l'unica compagnia al mondo che lo fa. Seconda cosa, la potenzialità gastronomica interna viene difesa dal modello nostro, per cui quando tu compri il nostro biglietto con la nostra app, mi sono dimenticato di dirti, questa è una novità assoluta, che noi non saremo presenti su nessuna piattaforma di vendita. Si potrà comprare soltanto sulla vostra. Un biglietto a Via Roma lo compri solo con l'app a Via Roma. Sì signore. E quando tu entri nel menu, tu puoi ordinare il menu alla cart, on board, che se tu prendi un biglietto in prima classe, business o turistica, non ci interessa. Per cui un cliente di turistica può serenamente mangiare austrica e champagne, per dire serenamente senza problemi. Intanto le compra al momento dell'acquisto del biglietto. Esattamente. Uno dei pensatori che si chiama Gaetano Rizzi, che si ha inventato tutto il modello di business del suo intero, l'ha proprio definita così, una compagnia democratica. Penso che ci hai preso al volo. Sì è vero, nel senso che noi ti vendiamo il posto, il posto a sedere, che tu puoi scegliere più confortevole o meno confortevole. Ma tutto il resto, i servizi che noi daremo a bordo, che sono tantissimi, in più innovativi, sono acquistabili da tutti, indipendentemente da dove tu ti siedi. Basta entrare nella app, al momento della registrazione si potrà... Esattamente. Tu hai un menu di servizi, hai l'e-market nostro con più di 20.000 marketer, quindi puoi comprare qualsiasi cosa mentre sei in volo. Saremo una delle pochissime compagnie, probabilmente la più importante, che distribuisce i live on board. Nel senso che se tu per esempio parti alle 8.10 e ci giocano a Roma, sul nostro aereo la pagina la puoi vedere. Hai capito. Quindi è un'innovazione assoluta, qualcosa che diciamo è futuristico più... Sì, noi ci basiamo. È già pronto il sistema o questo è una... No, 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 il sistema è già prontissimo, infatti io adesso sono nell'ufficio dei pensatori, dei programmatori, ma il problema è legato, per l'inizio delle date del volo, che immagino che sia una domanda che mi farai, è legato al fatto che noi siamo obbligati a mettere in flotta aerei dotati del sistema wifi on board. Quindi questo ha comportato una scelta e una lentezza di acquisizione degli aeromobili diversa, perché il 90% degli aeromobili circolanti non ha il wifi on board. E se devi modificarlo significa fermare l'aero due mesi, eccetera. Quindi finalmente abbiamo trovato una stabilità di fornitura, appena saremo pronti con la piattaforma che gira perfettamente, che esiste, è già pronta a girare, domani verrà in parte presentata, noi saremmo pronti a volare. Allora, solo due ultime domande. Chiaramente sul logo, il riferimento è chiaramente a Roma, come menzionavi tu prima, e soprattutto nella colla dell'aereo abbiamo SPQR, che è un simbolo riconosciuto in tutto il mondo. Roma, chi si collega nel piano di Avia Roma? È assolutamente centrale, è centrale, è centrale. Roma rappresenta l'Italia, la capitale dell'Italia, lasciando perdere le retoriche politiche nord-sud, eccetera. Roma rappresenta da sola il 23% del patrimonio archeologico mondiale. Roma rappresenta il motore per il quale tutti i viaggiatori del mondo vogliono venire in Italia. Dopodiché c'è una distribuzione sul territorio, quindi a proposito di piccoli aeroporti, porti riattiveremo Siena, che ha il suo aeroporto, è una città meravigliosa, piena di turisti dove adesso per andarci serve la piccozza, praticamente. Qual è la città, scusa, che ti abbiamo perso un attimo? Siena, per esempio. Siena. Siena. Siena ha un aeroporto, perfetto. Allora cosa capita? Capita che Roma è centrale e SPQR è centralissimo, perché SPQR per noi rappresenta la visione dei romani. I romani ebbero le visioni di fare acquedotti che adesso utilizziamo, ebbero la fognario, ebbero la visione di come si facevano, voglio dire, la difesa del territorio nelle truppe con la testugine, eccetera, eccetera, erano dei visionari. Noi speriamo in piccolo di essere visionari come loro ed è per questo che abbiamo adottato l'SPQR. E questo ci può fare solo che piacere, stando noi a Roma. Anche come italiani, ecco, perché è un simbolo riconosciuto. Sarebbe, sì, ma infatti volevo dirti che è una bella cosa, che a Via Roma non ha fatto neanche un metro di volo e Mitam, che fa le statistiche dei brand, l'ha già considerata uno dei 25 brand più cliccati. Hai capito. E ancora dove partire? Al mondo, eh? Diciamo che appena parte vola. Non abbiamo fatto niente. Se mi permetti. Diciamo che appena parte vola, sì, sì, sì. Poi un'altra cosa che ti voglio dire, che è importante, è che la compagnia adotterà un modello di iper-welfare, cioè il welfare dei dipendenti è avanzatissimo. Comprende, per esempio, i piani finanziari per gli studi dei figli all'estero, comprende, per esempio, piscina, spa negli uffici, comprende, per esempio, tutta una serie di gratuiti e, per esempio, gli stipendi collegati all'inflazione, in automatico. Quindi sono tutte cose iper-welfare che noi, di fatto, facciamo perché riteniamo che i nostri dipendenti siano i nostri agenti sul territorio, quindi devono essere felici e motivati. E questo ci può fare soltanto che piacere. Chiaramente verrà... Ma ti guardo perché dove sei tu, così magari almeno la nostra manifestazione te la... Sì, te la entro, sì. Quindi, non so se si può dire, io vorrei augurarvi un buon volo a questo punto. Chiaramente la domanda è retorica. A quando il primo volo l'hai presciuto prima? Noi speriamo davvero, stiamo lavorando 24 ore al giorno per essere operativi d'estate. Quest'estate? Però, sì, quest'estate vuol dire l'inizio dell'estate, perché fare la summer da metà non ha un gran senso. Però voglio dire, lo dico a tutti, che se dovessimo, perché la piattaforma non riteniamo che sia perfetta, a slittare di un mese, non ci facciamo venire in mal di testa. Comunque, intanto tutto, grazie, ti auguriamo il meglio, anche perché questo sarà sicuramente un modo per portare molti più turisti in Italia e fargli conoscere tutte quelle location come Scalea, nominavi prima, come Matera, saranno più raggiungibili, di conseguenza a Osta saranno mete gettonate dai turisti italiani e stranieri, perché sarà più semplice raggiungerli. Proprio così. Grazie, ringraziamo la comunicazione per averci ospitato, ringrazio Robert Flavio Paltrinieri per averci dedicato questo tempo prezioso e di averci anticipato qualcosa, visto che domani ci sarà la presentazione ufficiale. Grazie a tutti e buona serata da Mario Gallo e il suo salotto. Ciao, ciao, ciao. Grazie a voi, grazie, ciao, ciao. Grazie a tutti.